Ciao ragazze e ciao ragazzi stiamo mangiando pancake noi ci abbiamo fatto la ricetta dei pancake salati se non l'avete vista vi lasciamo il link e vi volevamo far vedere una variante perché l'avevamo fatti vedere diciamo versione panino insomma ripiene no? però si possono fare anche proprio stile pizza è veramente un'idea carina per mangiare una pizza però light comunque senza lievito ed è molto molto buono meno carboidrati e più proteine esatto e noi la andremo a farcire con il pomodoro e la mozzarella e Nenzi ha fatto questa scoperta della mozzarella light si c'è questa mozzarella light, beh questo è Galvani però se vedete nel supermercato di qualsiasi marca non è questa la marca praticamente c'è scritto sopra proprio almeno c'è il 50% di grassi rispetto alla mozzarella normale infatti andate a vedere negli ingredienti vedete che i grassi sono molto inferiori rispetto alla mozzarella e poi è ricca di proteine quindi la porzione di grassi è diminuita e invece aumentata quella di proteina si esatto comunque qua ci sono i nostri pancake appunto sono quelli là che vi abbiamo fatto col video sono super sofficissimi e sono veramente veramente gustosi da mangiare anche così al posto del pane adesso vi facciamo vedere pancake pizza troppo troppo carino si margherita che poi si può fare qualsiasi gusto noi siamo sempre per la margherita praticamente il pancake già precedentemente cotto questi si possono anche conservare nell'altro video mi sono dimenticata di dirvelo anche conservare e mangiare tipo il giorno dopo ecco guardate com'è bello adesso andiamo ad aggiungere anche la mozzarella appunto quella che vi abbiamo fatto vedere prima tagliata tutti a pezzettini piccolini da Nensi che è bravissima ma quanta ne è abbondante adesso la facciamo sciogliere sempre con il coperchio ecco bellissimo si è sciolta tutta la mozzarella mettici anche guarnisci con qualche fogliolina di basilico Nensi e poi ce lo mangiamo è troppo bello invitante è vero bellissima ma proprio la margherita la pizza aspetta che sta un attimo un'inibbia yummi buonissima ma ce la mangiamo tanti like per questo pancake pizza e taggateci nelle vostre foto su Instagram su Facebook dappertutto mi raccomando pancake pizza a bomba ciao ciao